Come coniugare paura e naturalmente soluzioni? Una soluzione è possibile secondo lei? Sì, sono possibili varie soluzioni perché il problema è complesso, quindi non esiste una sola soluzione ma esiste un set di possibili azioni che vanno da quelle nel breve termine e quelle a lungo termine. Nel breve termine evidentemente c'è un problema di sicurezza, ma non è pensabile risolvere tutto con lo strumento della sicurezza. Bisogna attivare anche innanzitutto dei processi per riequilibrare il Medio Oriente che oggi è completamente sbilanciato. Senza quello non è immaginabile una soluzione positiva con una fine del flusso dei profughi. Le soluzioni di lungo termine necessitano un riequilibrio delle strutture mondiali, da questo non si scappa. Ancomplice anche il fatto che vi è un crescente declino demografico dell'Europa che rende ancora più sbilanciate le ricchezze e le povertà fra nord e sud del mondo. Lo chiesto anche al prefetto Morcone. Esiste qualche strumento giuridico, qualche strumento con cui lo Stato può fare qualcosa in più e che ora è mancante? A livello giuridico, di sicuro è necessario avviare una riflessione che coinvolga anche l'apparato legislativo, quindi il Parlamento, sulle realtà del più dell'Islam in Italia che oggi non è ancora riconosciuto e che sta in una situazione di profonda divisione di zone d'ombre, zone di chiarezza. Per cui attorno agli strumenti classici giuridici di prevenzione e di repressione vanno anche attivati degli strumenti propositivi che rafforzino il senso identitario di questo Paese e permettono di accogliere anche l'altro. Perché senza una forte identità nostra, come dire, si è incapace di avvicinarsi a un altro che sarà sempre più numeroso. Da esperto, ottimista o pessimista, diciamo nel breve medio periodo, su un'integrazione possibile, almeno nelle nostre terre? Bisogna quindi definire il parametro di ottimismo e pessimismo e non sono scioccamente ottimista e non sono, come dire, egoisticamente pessimista o stupidamente pessimista. È evidente che ci sono dei problemi, è evidente che a volte sono dei problemi anche seri, di grande difficoltà, ma non possiamo immaginare che questo sia la fine di tutto. La storia va avanti, dobbiamo noi adeguarci ai mutamenti storici. Prima lo facciamo e meglio riusciamo a farlo.